Un saluto a tutti e ben ritrovati a The World 125 su Europa Universalis 4 Ed it growing now it's time with Extended Timeline thoroughly madness At the time 1934 per la certezza del 2 agosto, che per chi non lo sapesse è la data di morte del presidente von Hindenburg, quindi è salito al potere il signor Adolf Hitler, ovvero il nostro capo di stato della nostra potente Germania, la grande Germania, amici Germania, basta dire Germania. E comunque, come vedete, questa mod è estrema, è qualcosa di impressionante, si può partire dalla guerra romano parta, per conto i parti, dalle binazioni barbariche, ci sono davvero tantissime date da giocare, davvero un'infinità, di questo è davvero della Gran Bretagna ancora, non è ancora del Canada, oh my Canada, gli Stati Uniti of America, America bitches, il Belize. Vedete, c'è l'Africa praticamente, è praticamente tutta francese o inglese, a seconda di come lo vogliamo mettere. Allora, vedete, qua c'è l'Italia, la nostra Italia, noi abbiamo molte più, sull'altra campagna abbiamo molte più conquiste, abbiamo l'Etiopia, abbiamo tutto questo, Somaliland, questo è già l'oro, abbiamo tutto il Sudan, l'Egitto, siamo molto più avanti, poi qua non è francese da noi, da noi è tutto italiano, è tutto italiano, tutto italiano, va, vabbè per non parlare di qua, che è tutto Slavi, Bulgari, Romania, Ungheria, Lausa poverina è stata ridotta da questo territorio, poveretti. In Italia non sono, mi sembra non siano state create nuove province da quello che vedo, no, sono sempre le stesse, e mi sembra che per avere nuove province bisogna installare la Fortitude o Mod, una cosa del genere, ho letto in giro anche su quello. Comunque, banda le ciance, scegliamo la nostra Germania e andiamo in game. Ok, eccoci qui sulla nostra mappa politica della nostra nazione, come vedete abbiamo già un bel numero di eserciti, naturalmente qua abbiamo la cavaliere, saranno adesso tank, credo. Allora, possiamo investire in tecnologica, di già, fascismo, new hidden socialism, german ambition, meno 5, certo, certo, certosino, elettrification anche, certo, come no? Possiamo fare i radar anche, stiamo avanti col tempo anche, però questo potevano evitarlo perché nel 34 i radar non erano ancora stati scoperti da tutti, cioè c'era praticamente soltanto l'Inghilterra nella seconda guerra mondiale, la nostra tecnologia, va bene. Va bene, va bene, aerial warfare invece, sì, è necessario proprio farlo, l'arial warfare, perché ne abbiamo bisogno dei nostri aerei, i nostri stuca, stucazze. Allora, mettiamo in pausa brevemente, allora, no, prima di andare avanti, io direi di guardare un po', diplomaticamente abbiamo come nemici d'Italia, perché storicamente l'Italia prima dell'Hanneschluss, cioè anzi, subito immediatamente prima dell'Hanneschluss e durante l'Hanneschluss, ovvero l'unione dell'Austria con la Germania, vedeva di cattivissimo occhio la Germania, anzi, considerava l'Italia un imbecille il buon vecchio Benito, solitamente più tardi si rese conto che la Germania era forte, ma vedeva l'annazione dell'Austria come un tentativo per attirarsi anche l'Italia e unirsela, invece poi si vedrà che si verrà fatto perché noi gireremo le spalle alla Germania. Quindi partiamo nel 34 con Hitler a potere e l'Italia che non vede di buon occhio la nostra Germania, quindi noi proveremo a caprarci le simpatie di Benito, vedete, leader Benito, Mussolini, un, due, uno, tre, nulla di che. Ehm, relation, improve relation, poi come sto a capire? Soviet Union, Soviet Union! Potevano scegliere un altro colore per il Giappone? A mio parere, l'unico errore, se non è, ecco, il Giappone, potevano quantomeno scegliere, non so, un, un bianco, visto che la bandiera del Giappone all'Evola c'era lì il, il coso, il sollevante lì, non sono esperto alle bandiere del Giappone. Rivali, Cina, Soviet Union, io e te andiamo molto d'accordo, Giappone, improve relation con Giappone, molto bene. Poi abbiamo ancora due diplomatici, direi di tenercene uno buono, una buona, una buona, non credo che gli Stati Uniti d'America ci vedano di buon occhio, no, infatti. Come non ci vede di buon occhio, praticamente nessuno da questa parte, beh, oddio, l'Inghilterra, storicamente l'Inghilterra era più vicina a noi che non agli Stati Sovietici. Molta parte della, molta nobiltà dell'Inghilterra durante la Seconda Guerra Mondiale spingevano per una pace tra Germania e Inghilterra contro i Bolsheviki. Anzi, il re è quello che ha abdicato, non mi ricordo come si chiama, ma sempre, io problemi con la memoria dei re. Vabbè, insomma, il re che ha abdicato in favore del re Balbuzziente era un noto sostenitore di Adolf Hitler. Beh, ed è sembra che sia stato anche questo un motivo per cui, oltre a, beh, allo scandal del matrimonio con Simpson, una divorziata, uno dei motivi per cui è stato allontanato dal re, dal re, dal retrone, il troppo legame con Adolf Hitler. Vabbè, che altro stato potremmo accattivarci la, vabbè, direi l'Austria. L'Austria ci vede male, eh? Proviamo le relazioni, certo. Basta direi, ok, sblocchiamo il tempo, allora, non ci sono mercenari, vabbè. Sì, il Brasile ci chiede l'alleanza, vabbè, ciao, eh. Improve... Sì, volevo ancora fare una piccola panoramica, possiamo... Un'altra, la Repubblica Parlamentare. Vabbè, vai. Ok. Nuclear Power Plant, va bene. Allora, andiamo a vedere un attimo, eh... Tecnologicamente, vabbè, siamo questi. Idee, abbiamo già tutte le idee già scelte, naturalmente in questo periodo. Abbiamo le alien administration ideas, papapá, papapá, papapá. Non abbiamo nulla di militare però Scandalo Abbiamo le defensive idea e offensive idea Niente di quantità che piacciono tanto a me Peccato Peccato, peccato, peccato Religious ideas Early military ideas For defense Carina, hanno aggiunto anche nuove idee militari Nuove idee Come si chiama? Nuove possibili branche da scegliere Se ti fai tutto il gioco Comunque noi abbiamo Zoomfit Guilds Specific Sokka Le gilde tedesche famose in tutto il mondo 10% di produzione in più Fuchling Zambra 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 Vabbè Ci sono dei diritti speciali In autunno In primavera e autunno Più potere commerciale Reikstrakes German territory Diplomatici Polizie Polizzei Polizzei Natural revolts Meno uno Poi è proprio cosa di religioso Che ci interessa poco Turn and tax In più Immunità Diplomatica E ok Vabbè Scegliamo una missione In population with Denmark Save Russian people In Memel Dov'è Memel? Memel è qua Memel è qua Ed è contro la Lituania Tu Polonia Ci concederesti il diritto Di passare Qua? Allora Iniziamo Io sceglierei Proprio quella missione Abbiamo proprio pochi rivali Dei rivali io sceglierei Soviet Union Vabbè nel popolo russo La Gran Bretagna No anzi la Gran Bretagna no Però la Francia si La Francia si di merda E uno ce lo teniamo buono lì Allora come cosa dire Salvare il nostro Insult Al nostro rivale La Francia Va bene Francia di merda Send in insult Va benissimo Tu con chi sei alleato? Con la Danimar Sì La Danimar Con chi è alleata? Con la Litu Vabbè Andiamo a vedere un attimo Proprio per puro Siamo i primi già Sarà una campagna Abbastanza facile Perché parlo come sovietico? Allora Danimar 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 Forse è meglio Si mettermi in ordine alfabetico Decisamente Sì Proprio in ordine alfabetico Dall'alto Danimar Eccola qua A 9000 uomini Pss 9000 uomini Che cazzo vuoi? E poi c'è la Lituania Che la Lituania Mi sembra che abbia 14000 Lituania 13000 addirittura Ok perfetto Sì la missione sarà Proprio quella di Salvare i nostri La stirpe tedesca Salviamo la stirpe tedesca Qua Ok Allora Tu Polonia Ci devi far passare Però perché Sennò mi incazzo Come una iena Non ho un diplomatico Da mandare Non ho nessun diplomatico Da mandare Guadagniamo anche Parecchi soldi Per tu Ok Sì Grazie Polonia Ah Volevo vedere un attimo Anche la mappa commerciale Vediamo un po' come Come siamo Dove è il pannello commerciale Allora Qui abbiamo Il 63% E sta collezionando denaro Bravo 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 Tu lo stai mandando Verso l'ubecca Bravo Bravo Mi piace Mi piace Poi che altro qua Abbiamo un mercante Sta trasferendo denaro Verso l'ubecca Bravo Mi piace Bravo Ne abbiamo anche uno qua A Vienna E sta trasferendo potere Sempre verso Frankfurt Bravo Mi piace Abbiamo qualche altro Mercante in giro Sì Ne abbiamo uno qua Nel mare valtico Dove abbiamo il 15% E sta anche tu mandando Potere di premato Verso l'ubecca Allora io devi mantenerci così Che guadagniamo 40 Io direi che abbiamo bisogno Vediamo Adolf Hitler Come capo di stato E' uno 024 Mass media Central station Allora Tanto riscopriamo questa Sì Abbiamo nuovi Ah vediamo le unità Machine gun Assault rifle Molto bene Mi piace l'assault rifle Sherman T34 Siamo un po' in anticipo In teoria Oddio Certo Non si può Non si può pretendere Di essere precisi Offensive fire 11 10 10 E beh Tiger 9 9 9 10 C'è il T34 Beh ma io direi Manteniamoci su Vedete qua c'è il French Katusha rocket Rocket barrage Erwin Rommel Erwin Rommel Il nostro generale Più fidato Vabbè comunque E direi che abbiamo bisogno Di punti diplomatici Militari Sicuramente E direi di scegliere Un Più disciplina Vai Diplomazia Questo da più 2 Mi va più che bene Mentre Questo qua da 3 Vai vediamo quanto Siamo in negativo Molto bene Siamo già in negativo Proprio positivamente Positivamente parlando Abbiamo un sacco di unità Da poter fare Ancora Navalmente Siamo un po' scarsi Allora Perderò un po' di soldini All'inizio Non mi interessa Ok Nederland col Messico Nederlands Con la Cina Vabbè Danimarca Cavoli vostro Allora Tu ci hai dato Il diritto di passaggio Ok Sì ce l'abbiamo Allora Vediamo queste unità Abbiamo 8 tank 8 tiger 1 E niente Ottilleria Vai qua Ne ho bisogno di più tiger Non abbiamo Praticamente non abbiamo Artiglieria Sì qua ce ne abbiamo Un po' Te la rubo Te la rubo E la Vai qua Abbiamo praticamente Solo tank Split enough Qua abbiamo Un bel esercito Lo mandiamo qua Lasciamo lì In controllo Della situazione C'è anche la Bohemia Che ci rompe le palle Allora ci vediamo Un attimo Accettato Qua stiamo facendo Alle A tu Modern times Leader Keep Sage Agitare 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 Molto bene We've lost Effetto Industrial Era Vabbè Questa è una cosa Che non ho Sinceramente Non ho letto Tutti i cambiamenti Della mod Qua ci metteva Il nostro bel Erwin Rommel Passiamo Possiamo Reclutare Anche un altro Generale Non abbiamo Il potere Militare Vabbè Nostro amico Erwin Mi dispiace Lituania Ma Colpa tua Eh Frank Brog De Stavano Supportando L'indipendenza Di queste Nazioni Bravi La 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 Allora Di Portare Un altro Esercito Qua Non si sa Mai Metti che Vogliono fare I furbi Qua c'è Altri 12 Di Ah no Questo qua Andava con Rommel Chiedo Venia Tu ti unisci E vai Già qui Tu ti unisci Con lui Mi Lasciamo Un esercito Lì Di Rinforzo Non Credo Che la Finlandia Sia un grosso Problema Con la Finlandia La Danimark Vabbè Tante Caricose Qua stanno Un sacco Di Alleanze Alleanze Netherland Soviet Union Alleanze Con la Cina Danzica Ah già che Danzica Era indipendente E tu hanno creato Lo stato di Danzica Madonna Ha cambiato il governo Ed è diventata una repubblica mercantile Vabbè Ci sta Ci sta Ci sta Questo esercito Di invasione Potente Proprio con 80.000 uovi Vai Ok Vai Bravo Mi piace Intanto stiamo guadagnando di nuovo Più uno Molto bene We've discovered Poland Canse Scusa Polonia Se voi Delle troie Siete Adesso io Ho qui Un esercito Mega galattico Vabbè Sei entrato in alleanza con la Littuania Per caso Polonia No E uno Dei tecnologie Si scoprono Mass media Va bene Facciamo i mass media Facciamo i mass media Queste che navi sono Per curiosità Sei navi pesanti Che navi ci sono Per curiosità Il cruiser Il torpedo E' chiaro Siamo proprio Head of times Queste sono navi Commerciali per i cruiser Light ship Proteggi i mercati Allora vediamo Potremmo mandare la Lubecca Più 4 ci costa 2 Nel mare del nord Più 6 ci costa 2 Sempre Più 20 Io direi di mandare il mar Baltico A sto punto Ok direi di concludere l'episodio Declarando guerra Alla Polonia Alla Lituania Nazionalismo Mi dispiace Ma abbiamo Nazionalismo Vai Start the invasion Vediamo cosa fanno i nostri amici Hanno giovinato tutti Chi sei tu? Vabbè l'Islanda perché penso sia una Un vassallo Della Esatto Una persona Unione personale con la Danimaria Per cagare Allora qua ci sono le nostre navi militari Vediamo le navi norvegesi Vediamole qua Vediamo la Tempo di invasioni qua Ok Vediamo con i tanker We are the tanker elite Born to compete Never retreat Born to compete Ok Ok La prima cosa Tu mi sei sulle palle E ti elimino Wow score Molto bene Henry Rommel Ha fatto Già un egregio lavoro Direi Allora Lasciamo solo Selectarmi Come ne so Via Ok Va bene Selectarmi Lasciamo quelle per l'assedio Uh Addirittura 7000 uomini avete Ok Erwin Devi conquistare Erwin Ok Mentre qua Lasciare quest'unità Siamo in perdita Perché naturalmente Abbiamo i costi di guerra D'anzi Un chi è alleato Per curiosità Con nessuno Pfff Un gioco come questo Dove le alleanze sono tutto Ok Entrata con Si l'Italia Ha accettato Un'alleanza Con la Jugoslavia Ma quando mai Che stato è la Jugoslavia E' una monarchia costituzione Non è ancora Non è stato Sovia Bene In effetti Tito arriva molto dopo Italia è alleata solo con la Jugoslavia Dobbiamo far cambiare idea di di nuovo Italia Selectarmi Ok Mandiamo indietro in modo tale Non subire attrito Ok Direi che per questo episodio è tutto La Germania subito Anche se qua Interessa le prese dell'Unione Sovietica La Romania Ci chiede l'alleanza Per curiosità Volevo solo vedere un'ultima cosa Quanti rapporti Possiamo avere 12 rapporti diplomatici Allora accetto Si Romania Va bene Romania Sei il nostro alleato Ok Questi abbiamo Vai No tecnologia La tecnologia è qua Rocket Artillery Aspetterei un attimo Aspetterei un attimo E lo farei nel prossimo episodio Quindi un saluto a tutti E alla prossima Ciao 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 ciao